Tutto a posto. Ah, era tutto perfetto, guardi. Come si chiama questo piatto qua? Purpiteddi alla straccina sale. Lo ripeto. Purpiteddi alla straccina sale. Bravo. Mia madre me ne parlava spesso. Era uno dei suoi piatti preferiti, era di vigata. Mi dica quant... anzi, me facisse o conto? Vosì è Bovara, il nuovo capo ispettore? Sì. Tutto pagato. Tutto pagato? E da chi? Don Cocoflitto, mi dite ordine che vos sia cadente e non avete da pigliare a mano il portafoglio. No, senta, non se ne parla nemmeno, mi dica quant'è, facciamola finita, su. Sentisse lei, signor ispettore, i soldi so che a vincere non me la posso pigliare. No, 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 sentisse lei, sentisse lei. Io i soldi li lascio allo stesso, eh. Il mio conto me lo pago io, è chiaro? Sì. 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 Sì.